Ragazzi abbiamo un problema, ci siamo totalmente innamorati di questo gioco, è da ieri che non riusciamo a pensare ad altro, quindi oggi uscirà il secondo episodio, ebbene sì Non abbiamo mai fatto una roba del genere, però stavamo pensando tutto il giorno a questo gioco, è davvero troppo figo, avevamo troppa voglia di registrarle di nuovo E quindi per due giorni di fila facciamo uscire Raft E ragazzi come va? Io sono Feri Niki, e io sono Stef, e che si giochiamo a Raft? Ebbene sì, siamo tornati nella nostra zattera, ho notato che la nostra palma è cresciuta tantissimo, cioè guarda E beh dai, abbiamo lasciato un sacco di tempo, è normale che è cresciuta, signor squalo, resti alla larga della nostra palmetta, perché lo scorso episodio alla fine del video l'hai attaccata e non ci sta bene Non si fa, non si fa E la cosa più importante di questa zattera, quindi stai alla larga, ok? Con il destro noi possiamo vedere tutte le cose che si possono craftare Abbiamo i pilastri, abbiamo le scale Oh belle le scale I muri, il pavimento Il soffitto Il soffitto, le finestre Bellissimo Quindi ci possiamo divertire un sacco a farci una specie di casetta, che sarà una figata pazzesca Ma prima di tutto abbiamo bisogno di bere, di mangiare, eccetera, eccetera Quindi secondo me ci dobbiamo creare l'ascia E certo, sì Che dovrei avere i materiali per farla, sì, giusti, giusti, giusti Ci creiamo un'ascia e proviamo a buttare giù la polvere a palmetta Vai Ti abbiamo amato, ma abbiamo bisogno dei tuoi materiali Ah vedi, ci sta dando anche le foglie, buonissimo Che quelle, se ti ricordi, comunque avevamo sempre difficoltà a trovarle Oh no, prendilo Preso E' preso? Sì Ok, il cocco, perfetto, perfetto Quindi cade Ci manca solo che il primo cade in mare Cade il cocco e allo stesso tempo ci dà legna e ervetta Oh, 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 qua ci distraiamo un attimo e tu attacchi alle spalle Alexander Cioè ce l'ha fatta? Sì Allora, Alexander non mi sta piacendo Io ti dico che deve fare la fine del fratello È troppo furbo Eh sì, è troppo furbo È troppo più furbo È andato proprio ad attaccare le nostre risorse, non tanto la nostra zaccora Ma poi con che tempismo, capisci? Ha proprio capito Aspettato che noi fossimo sulla palmetta Sapeva che saremmo stati distratti dalla nostra bellissima palma Che era un momento importante E ne ha approfittato per azzannare una delle nostre reti Che sa benissimo che è una cosa importantissima della nostra zattera Alcuni consolini nei commenti ci hanno chiesto Ma cosa succede se cade in acqua? Niente, si può notare Il discorso è che secondo me Se tu stai in acqua Alexander se ne accorge e infatti si avvicina Eh, e poi ho notato che avevamo la barra della fatica Quindi evidentemente non puoi stare troppo in acqua Perché altrimenti affoghi È vero E più ti mangia lo squalo E più ti mangia lo squalo Quindi direi Io direi che gli squali sono belli solo quando finiscono nel nostro stomaco E non viceversa Quindi eviterei di stare troppo in acqua, no? Sono d'accordo? Perfetto Direi che le nuotatine ce le possiamo risparmiare Esatto Ok che ci facciamo un po' di muscoli e tutto Ma va bene così Va bene così Ce li facciamo anche costruendo Quindi è perfetto Va bene Allora iniziamo a fare le scale Per trovare No come non mi fai fare le scale? Perché? Sentimi Ok No io voglio le scale Voglio il secondo piano qui Allora no sentiamo me Se noi non facciamo prima le retti Non acchiappiamo più oggetti Non acchiappiamo più molte piantine E di conseguenza Ma non è giusto Come facciamo a creare tutto Quando guarda quante cose ci servono Adesso io ti faccio vedere Tipo selezioniamo Guarda eh Guarda 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 questo Già uno Per fare una sola finestra Poi ne ho visto un altro Vedi anche il muro Chiede sempre uno Quindi un sacco di foglioline Le foglioline ne chiede tante Sì Quindi secondo me Dobbiamo un attimino creare Una farm migliore di foglioline Non so come Ma potremmo farlo Se vogliamo chiamarlo Ah sai che possiamo anche riparare gli oggetti Uh davvero Vedi che qua mi stai dicendo Cento di cento Cento di cento Cento di cento Vediamo un attimino Ragioniamo Quanto sono grandi Eh sono parecchio grandi Così No vedi che poi devono Ah te le fa fare lo stesso No secondo me no O le fai tutte sulla piattaforma Perché secondo me Poi ti viene difficile andare a recuperare gli altri No così no No perché comunque Vedi che ha pilastro Quindi non mi dà problemi a raccogliere gli oggetti Dici Sì E allora vai Dai proviamoci Vediamo cosa ne esce fuori Che bella Vedi io vado così Ah allora perfetto Sì Sì Mi stavo facendo spaventare Dai 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 Sì funziona Perché avevo paura proprio che ti desse problemi Nel raccogliere i materiali Invece no Perfetto Che bella che Eh sì Giganti Squalo Ora siamo più in alto di te Non venire Guardalo Non ci provare Guardalo È gelosissimo No No È più resistente È resistentissimo È più resistente Non ho dubbi È più resistente È proprio potentissimo Vediamo se il pilastro così funziona Eh proviamo così Ho dei dubbi Però può comunque funzionare Allora quindi Proviamo col pavimento Eh sì che funziona E guarda posso anche farlo intorno E costa solo legna questo Oh che bello Allora esagera Ok no Un pilastro vedi È un per se Sì Io te l'ho detto Funziona praticamente come su Rust Che un pilastro comunque ti atto Eh beh altrimenti saresti pieno di pilastri Farebbe Ah no vedi però anche qua Ok 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 Allora quindi Adesso Abbiamo bisogno di mettere un altro pilastro Molto più in fondo Quindi Riposizioniamo le foundation Comunque Il floor si può mettere sui pilastri Invece le fondamenta si mettono sull'acqua Ok Quindi la differenza è questa Questa è la differenza Perfetto Esatto Io pensavo di fare così Mettiamo qua un altro pilastro E a quel punto mettiamo un sacco di altri floor Sì Ok Sì ma decisamente Ci esce una roba bellissima Ci esce bellissimo Ci esce bellissimo Quindi riselezioniamo floor Vedi È bello questo Mamma mia È una figata questo gioco Mamma mia È troppo bello Mamma mia Pa 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 Guarda che bella villetta che ci siamo fatti Adesso voglio espandere di qui però perché siamo troppo stretti Quindi vedi adesso noi ci possiamo espandere verso qua Di parecchio Ta Ta E ta E un altro non ci esce Giusto? Ok È un po' complicato Eh va bene va bene anche così Eh se poi metti No Che succede? Non abbiamo guardato la sette Abbiamo pensato a fare la casetta E siamo morti E siamo morti Perché? Perché siamo morti di sette Sai Ma non ci fa neanche un avviso? Tipo Ehi stai morendo Sai Le cuffie Il personaggio I consolini L'avranno sentito da due ore Che stanno facendo Perché? Perché ci facciamo prendere la mano? Ma noi non abbiamo l'audio Dalle costruzioni Dead Stereniki Cioè dobbiamo riniziare da capo? Io non ci credo Stavamo facendo una casetta bellissima Cioè quindi se muori Mori E beh Mi sembra giusto E dopo un'eternità Abbiamo di nuovo Una bella base Hashtag La serie dei fail Cioè non ce la possiamo fare Allora Al primo episodio Ho chiuso io Il gioco per sbaglio E per di più Doveva salvare E in realtà non si è salvato Quindi non solo fail Ma pure bug Al secondo episodio Siamo morti Perché non guardiamo la sette Direi che È decisamente La serie dei fail Cioè stiamo proprio Dando il meglio di noi Secondo me Allora Perché il gioco è troppo bello Siamo troppo impegnati a costruire Quindi non ci rendiamo mai conto Quando ci servono le cose Comunque una cosa importantissima da dire Ok Ovviamente Essendo in un'altra partita Sì Non è che c'è più Alexander Capito C'è un nuovo squalo Ok Vuoi sapere come si chiama? No Te lo dico No grazie Te lo dico No no sinceramente Sei pronto Tienilo per te No è bellissimo Sei pronto Ma no di sicuro non lo starà Pasqualo lo squalo Pasqualo lo squalo Esatto Ma non esiste Pasqualo come nome Per lo squalo Pasqualo lo squalo Ma al massimo se beh è Pasquale No è Pasquale lo squalo Altrimenti non sarebbe lo squalo Ma non esiste Allora Allora Sì Questo lo dici tu che non esiste Come sono stati inventati i nomi tanti anni fa Ne posso inventare uno anche io Ed è Pasqualo lo squalo Non è lì meglio da fare? No Ok No mi piace dargli dei nomi Sì Sì Va bene Siccome lui non era parente di Eilander e Alexander Non c'era bisogno di far rima Quindi proviene dall'Italia Si chiama Pasqualo Pasqualo Infatti in Italia è pieno di persone che si chiamano Pasqualo No? Esatto Sì 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 Ci siamo esponsi di più verso sinistra Quindi a livello di materiali secondo me ne stiamo facendo più di prima Abbiamo la carne del primo squalo che è già schiatato giustamente Adesso continuiamo ad espanderci qua verso l'alto Quindi allora rimettiamo qua e dobbiamo rimettere le fondamenta Sì assolutamente E ne piazziamo Ah non ho fatto le corde un attimo Pa 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 Sempre corde Sempre Secondo me qui e qui Ok Poi rimettiamo i pilastri Ta E ta Ok Perché forse non stai capendo esattamente quello che sto facendo No ho capito tutto Non ti preoccupare Non sei architetto come me Quindi non capisci No ho capito tutto Non ti preoccupare Se vuoi te lo spiego No 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 nessun problema È semplicissimo Hai bisogno di una spiegazione No grazie No No Sicura? Sì Ok Guarda che bellina Molto Tu sei l'addetta a controllare se ho sette Ok Perché a me? Perché io voglio costruire Voglio fare le cose No perché io sono l'architetto E tu sei la redattivice di interni No Non funziona così perché qua non ci sono arredamenti Quindi non mi fregare Mi ha scoperto Qua si costruisce e basta Si costruisce Vai via Pasquale vai via Sulla nuova piattaforma gordo come si è antipatico Vai via Ciao fat Ciao fat Dispettoso Dispettoso Questo è perché ha insultato il suo nome È solo per quello Non si sarebbe arrabbiato così se non avessi insultato il suo bellissimo nome Mi dispacco la faccia guarda Cioè ti sembra? Io dispacco la faccia Ma secondo te se mettiamo le mura La smette? Non credo Non lo so Non ne ho la più pallida idea In effetti pensaci Se tu metti le mura Come fai a vedere se lui sta chiappando la piattaforma Non vedi più Quindi abbiamo un problema La spacca gratis Non lo so Non lo so Bisognerebbe vedere Allora Continuiamo a fare per ora la nostra bella piattaforma Per ora ci dedichiamo a fare una piattaforma alta Ok Ok Poi Vediamo un attimino come muoverci Se magari facevo i pilastri Sono molto furbo Non li puoi mettere da sopra Un piano Per noi Cucina La cosa per l'acqua Qualche vasetto Una roba bellina Ok Con tutte le mura Le finestre Tutto quello che si può fare Sì vabbè Un piano Per le palme Uno in zero Ci facciamo il giardino Ci facciamo la serra E giù? La serra giardino E giù Sarà un po' Al posto dei raccatti Cioè tu vai lì a raccatare Capito? Ti svegli oggi cosa raccato? Anzi un po' di più legno Un po' di piantine Un po' di ferro E raccati tutto Assolutamente sì Quindi Secondo me Questa È la nostra casetta Sì ma Ma la sola questa forma Che ti dirò Anche bellina Se mettiamo delle mura Puoi messere carina E anche bellina Grazie Sì 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 Qui Iniziamo Le scale Per arrivare Al Prometheus Ok Ok Va bene? No Quindi noi saliremo di qui E qui ci sarà la super serra Dove metteremo palme E vasetti Ok Sarà una roba bellissima Gigantesca Lo spero che esca bellissima Voglio otto palme Deve essere proprio una foresta di palme Una roba meravigliosa E invece qui sotto Adesso vediamo se riusciamo a iniziare a fare qualche primo muro Ok Mentre guarda L'impero di Di Detriti Detriti Che abbiamo Che stiamo raccogliendo Proprio La ditta numero uno No ormai stiamo a posto Cioè guarda Ormai stiamo a posto Stiamo anche ripulendo Hashtag Raccattiamo come nessuno Ti dicevo Stiamo anche ripulendo gli oceani Qui stiamo facendo proprio cose giuste Brava Siamo bravisti Magari ci prendiamo dei finanziamenti pubblici Eh esatto Ho capito Eh sì Eh assolutamente sì Secondo te perché i muri Non li posso fare Alla parte esterna Della piattaforma Ma solo in quella Provo a girarli Perché secondo me sono al contrario Vedi Arredatrice di interni No i muri sono d'architetti No no Sono l'architetto migliore di te Assolutamente Capito Non ci provare Si sa che sono meglio di te Per i muri non serve la corda Ma serve la palma tenuta palma La palma Che Cos'hai detto Non spiegami cos'hai detto Che bellino Che Sto facendo finta di nulla perché ha felato La palma Non la devi trasformare in corda Ma tenere la palma Quindi la palma Che rimane palma Continua Hashtag palma Guarda che bella Stiamo confondendo con questi hashtag Sì ormai ne mettiamo troppi Mettiamo anche un sondaggio Hashtag palma Hashtag raccattiamo tutto come nessuno L'acqua 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 Dov'è bere Prima che moriamo di nuovo Dobbiamo riniziare da capo Mamma mia Vedi che allora cosa la sai fare ogni tanto No ho paura di riniziare di nuovo da capo E aspettare quattro ore qua No cioè sinceramente Questo villone che ci siamo fatti Non possiamo perderlo No cioè troppo bello Vai è il momento di raccattare È il momento più bello dell'anno Cosa ti hanno regalato per Natale Quest'anno Foglie È travi di legno Così vedi poi ti fai il fortino in casa Cioè dopo che vedi raft ti fai il fortino Certo è una figata Sì assolutamente Sì raccattiamo tutto come fa nessuno Siamo troppo bravi Bisogna di cantare E quante foglie abbiamo Giusto per sapere No No sì è molto importante Mentre eravamo distrutti a costruire Pasqualo ci ha spaccato un altro pezzo Io sinceramente fra un po' gli spacco la faccia Invece che un pezzo No lasciali in patch No no mi sta facendo un po' arrabbiare Team Pasqualo Ormai è l'amico di tutto Team Pasqualo È l'amico di tutti È il nostro nemico Che amico Ascolta ma tu devi solo ringraziare Che non mangia a te Ma sia contenta di mangiare Di un po' di legna Cioè doversi solo ringraziare Ma lui sta mangiando la legna Per arrivare a noi Sì ma questa è casa sua Non è casa nostra Quindi ha ragione lui Ecco Vieni 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 Dai che ti insegno Le buone maniere Pasqualo Vieni qua che ti aggiungo un pochettino Adesso ti seguo pure sull'acqua Dove vai Eh No evitiamo va No mi fa troppa paura Non scenderemo più in acqua Evitiamo va Non ci provare mai più Fallo da solo Quando io non ci sono Se proprio lo vuoi fare Guarda Ho avuto paura anche io Non ci provare mai più Allora Allora quindi Torniamo alle nostre bellissime costruzioni Dovevamo fare l'ultima finestra qui Certo Quindi tacchete Adesso abbiamo bisogno Di tornare a fare dei muri normalissimi Ah finestre ci stanno lì Vai Vai di finestre Vai di finestre Qua Sì dai due Sì che ci stanno Le facciamo qui Ok Guarda che bellina Eh però lì devi stare attento Perché per il prossimo No lascia aperto Lascia aperto Perché Perché per il prossimo piano Devi farti i pilastri Altrimenti come costruisci Lascia aperto Ok Poi magari una volta che li finiamo Chiudiamo Sì poi chiudiamo bene Esatto esatto Va benissimo Va benissimo Qui comunque ci toccherà fare altri Pilastri di sotto Che fanno fare floor qua Che ci permettono di mettere i pilastri Per questa nuova serra Sarà proprio una roba Capito Secondo me alla fine arriviamo in un'isola A furia di costruire Esatto Assolutamente sì Vero Assolutamente sì Inizia a pensare Troviamo terra Non si sa come E sarà la gente Che verrà da noi Invece che noi da loro Da quanto sarà bella La nostra zattera Ovviamente Tutto l'oceano ti prende Il nostro besciolino è pronto Ce lo mangiamo E ci fermiamo così Per questo episodio Siamo pieni di sete Pieni di cibo Abbiamo delle reti bellissime Per accatare tutto quello Che arriva dall'oceano Stiamo facendo un buon lavoro qua Ovviamente anche qui Dovremmo poi fare delle mura Per farlo tutto più bellino Esteticamente Perché è importante Anche fare le cose carine Esteticamente Però comunque Abbiamo già fatto Un'ottima roba Secondo me E dai È una base almeno carina Ovviamente andrà sistemata Come si deve Però io sono soddisfatto È un inizio È un inizio Nel terzo episodio Ci possiamo fermare così Nel terzo episodio Quindi costruiremo Costruiremo La serra Piena di palme Che sarà proprio lì Che ti sdrai Ti prendi il sole Con queste palme bellissime Dopo un po' il sole Poi ti fa male Quindi è giusto Che ti ripagli Esatto Sarà una roba meravigliosa Ce la inviderà chiunque E poi Soprattutto Pasqualo Soprattutto Pasqualo E poi Che infatti guardalo Come geloso Dannazione Questa è la nostra outro Non è la tua outro Ma è morto Sì Ma è morto Sì Lo sapevo Tristezza Proprio a fine episodio Ma no Potevi resistere Non è più Voleva fare l'uscita Ha detto Che lui non voleva Comparire in un altro video Come gli autori Capito Che a un certo punto Nei telefilm Dicono No basta Me ne vado Pasqualo ha fatto la stessa cosa Pasqualo era una prima donna Quindi Cioè Di quella che vuole sempre Che fa le uscite sceniche Fermiamoci Ma povero Bene che ci riesci Così si è giusto E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao